buongiorno signorina salve che non so il cellulare non prende che sta un poco rovinata la linea eh si non c'è molto campo da queste parti ho capito siccome devo chiamarla caserma non so se posso scherza chiami con questo eh grazie niente eh signorina qua non si sente tutto tutto ah no per la linea esterna deve fare il 10 ah signorina chiedo su ma qua i numeri 10 ha detto si i numeri arrivano fino a 9 non c'è non è che un modello vecchio questo